Edizione del nostro telegiornale che apriamo con il bollettino odierno con i dati che riguardano il coronavirus, dati che vedono una crescita dei contagi in Lombardia sono 1565 in più rispetto a ieri. Ieri erano stati poco più di 1000 in nuovi casi per un totale di 4773. I ricoveri non in terapia intensiva sono 44 in più di ieri. I ricoveri in terapia intensiva 18, ieri addirittura avevamo assistito a un dato negativo cioè il saldo tra uscite e ingressi nelle terapie intensive aveva segnalato un meno 6 quindi una maggiore uscita rispetto agli ingressi. Quest'oggi invece il dato è tornato a crescere. I decessi sono 394 anche questo un dato che è cresciuto rispetto a quello di ieri quindi i morti in totale in Lombardia per o con coronavirus sono 7593. Per quanto riguarda le province a Bergamo e Brescia continua a essere importante la crescita. Bergamo 236 casi in più di ieri a Brescia 231. Acomo 56 in più, Cremona 72 in più, Lecco 46, Lodi 41, Monzebrianza 81. Attenzione al dato di Milano sono 9522 i contagiati in totale quest'oggi 611 in più per cui un dato da guardare con una discreta attenzione. rimane, stiamo parlando della provincia di Milano, rimane una provincia molto popolosa e il dato è assolutamente sotto controllo ma va sempre monitorato con particolare attenzione. A Milano città in particolare sono 3815 i contagiati con un incremento di 159 rispetto a ieri. Poi abbiamo Mantova 48 casi in più, Pavia 47 casi in più, Sondrio 14 e Varese 44. Poi ci sono 937 casi in fase di verifica. Per quanto concerne i tamponi sono tornati a crescere, abbiamo visto che nei giorni scorsi c'è stato un calo dei tamponi effettuati. Ieri erano stati 3583 in più del giorno precedente, quest'oggi invece quasi il doppio, 6809, che porta così il totale a 121.449 tamponi. Andiamo a sentire che cosa ha detto l'assessore al welfare Giulio Gallera in quello che ormai è il suo consueto appuntamento giornaliero nel quale fa il punto della situazione. Dice Gallera c'è qualche complessivo miglioramento, anche se come abbiamo visto i dati sono comunque critici, ma sarebbe folle allentare la guardia adesso. Sentiamolo. E' proprio adesso che sarebbe, consentitemi il termine, folle vanificare tutto. Capiamo che rimanere in casa, soprattutto per coloro che hanno bimbi piccoli, è faticoso. Perché bisogna inventarsi ogni minuto qualcosa di nuovo per impegnare la giornata ai bambini. E poi ognuno di noi era abituato ad andare al lavoro a ritmi diversi, oggi siamo chiusi in casa. Ma guardate che lo stare chiusi in casa è quello che ci ha portato oggi a dire che forse c'è una luce in fondo a quel tunnel che giorno dopo giorno da piccola e flebile sta diventando un pochino più ampia e delineata. Ma se questo avviene per la vostra capacità di resistere, e questa capacità di resistere non può deflettere oggi. E per quello che noi in qualche modo su messaggi che sono arrivati dal governo, che sembravano dare un'idea di allentare la presa dell'attenzione, abbiamo reagito. Io ho già ricevuto almeno tre video di qualcuno che veniva con i bambini anche qua sotto a giocare a nascondino. E allora questo non va bene, non va bene perché oggi ci sono dieci persone che portano i bambini a giocare, domani ce ne sono cento e dopo domani ritorniamo in una situazione in cui si creano le condizioni della diffusione del virus perché si riduce o addirittura si polverizza quel distanziamento sociale che invece è assolutamente necessario e fondamentale. Siamo riusciti negli ultimi 20 giorni a non dare al virus corpis da cui nutrirsi. Dobbiamo continuare così amici, dobbiamo assolutamente continuare così. Questo Gallera che ha fatto riferimento a quella interpretazione di ieri, quella circolare che sostanzialmente era una sorta di via libera al fatto che si potesse circolare un genitore con un bambino minorenne pur rimanendo nei pressi della propria abitazione. Ieri Gallera era stato molto duro e lo avete sentito anche oggi, è tornato sull'argomento e ha ammorbidito ma solo in parte la sua posizione. Di questo ha parlato il Presidente di Regione Lombardia, oggi Attilio Fontana, che ha spiegato di aver parlato con il Ministro dell'Interno Lamorgese da cui era partita questa disposizione e ha spiegato che in Lombardia non cambia nulla. Sentiamolo. Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il Ministro Lamorgese, è stato chiarito che si è trattato forse di un equivoco o di qualcosa comunque che io oggi ho definito con una lettera inviata ai sindaci in cui sostanzialmente dico e ribadisco che non è cambiato niente rispetto a prima, che il contenuto dell'ordinanza che scadrà il 4 di aprile continua ad essere in vigore, continua ad essere valida e quindi fino a quel momento quantomeno i comportamenti che si sono tenuti fino ad oggi e fino a ieri dovranno continuare ad essere mantenuti. Tra l'altro è notizia di oggi che sono state prorogate le misure da parte del Governo fino al 13 di aprile. I sindaci di centro-sinistra di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese hanno rivolto una serie di domande in una lettera pubblica al Presidente della Regione Lombardia, Tiglio Fontana. Le domande riguardano in particolare quando saranno disponibili i dispositivi di protezione a partire dalle mascherine il cui arrivo è stato promesso da tempo. Che cosa sta facendo la Regione per proteggere il personale sanitario e gli ospiti delle RSA, in molte delle quali sappiamo purtroppo di numerosi decessi, chiedono i sindaci. In una recente conferenza stampa il Presidente Fontana ha detto che la situazione è sicuramente sotto controllo e che tanto i plurisintomatici che i monosintomatici verranno sottoposti a tampone. Chiedono i sindaci di centro-sinistra e dei principali capoluoghi di provincia Lombardi se ciò stia realmente accadendo. Perché la Regione Lombardia non segue le direttive del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tamponi i sintomatici e i loro familiari e i contatti recenti? Perché la Regione Lombardia non ha ancora utilizzato l'avvio della sperimentazione dei test sierologici come avviene in altre regioni? E insomma tutta una serie di domande, di questioni, a cui probabilmente domani, se non in serata, il Presidente Fontana risponderà. C'è un dato, uno studio, in base al quale il numero dei deceduti che è elevatissimo, abbiamo visto anche oggi quasi 400, dovrebbero azzerarsi questi decessi entro il 15 di aprile. Nella peggiore delle ipotesi si assisterà a un altro mese ancora pesante ma poi si dovrebbe arrivare non a una riduzione dei morti ma proprio all'azzeramento. In tutti i particolari nel prossimo servizio. I decessi attesi in Italia per coronavirus potrebbero esaurirsi entro il 15 aprile o al massimo si dovrà aspettare fine maggio nello scenario peggiore. Intanto già dalla prossima settimana si potrà probabilmente assistere ad una significativa e persistente diminuzione dei pazienti nelle terapie intensive. E quanto riferisce all'Ansa Davide Manca, del Politecnico di Milano, autore di un report della Società Europea di Anestesiologia sulla situazione italiana. Significa, spiega, che c'è un range di date che fortunatamente va restringendosi giorno dopo giorno entro cui plausibilmente i decessi si esauriranno. Si passerà cioè dal vederne 800-900 al giorno, come avviene oggi, a vederne sempre meno fino a toccare incrementi trascurabili come 5 o anche 0. La situazione, se si mantengono le misure di distanziamento sociale attualmente in vigore, non può che migliorare, rileva l'esperto, massimizzando le chance di uno scenario più favorevole. Intanto sta già calando la richiesta di terapia intensiva. Ieri in Italia c'è stato un incremento di solo i 42 posti letto, al netto tra ingressi e uscite di pazienti. In Lombardia si è assistito addirittura per la prima volta da inizio della pandemia ad una diminuzione di 6 pazienti in terapia intensiva. L'esperto si è servito di due modelli matematici per prevedere l'andamento dell'epidemia. È emerso che la quasi totalità dei decessi attesi, il 98% del totale, in Italia dovrebbe dunque verificarsi entro un paio di settimane nello scenario più ottimistico, mentre in quello peggiore, per arrivare al totale dei decessi attesi, dovremmo aspettare ancora un mese. Il modello più pessimista, oltre a prevedere un periodo più lungo per il raggiungimento del plateau dei decessi, ne stima anche un numero maggiore, sostiene l'esperto. In questi giorni, purtroppo, stiamo vedendo il picco dei decessi quotidiani, cioè il massimo incremento giornaliero di morti, conclude Manca, e plausibilmente sarà così per i prossimi giorni. Però abbiamo iniziato a vedere la discesa, per quanto riguarda i posti di terapia intensiva, necessari giorno dopo giorno. La nuova app introdotta da Regione Lombardia, Allerta Lom, che è stata presentata ieri, sta ottenendo un buon numero di consensi. Tanti i lombardi che l'hanno scaricato, altri che già avevano quella app prevista per le emergenze, l'hanno riaggiornata con dunque il nuovo servizio dedicato al coronavirus, un servizio che serve per mappare il contagio. Si chiama Allerta Lom ed è un'app da cellulare che serve per tracciare la mappa del rischio di contagio. Va scaricata sul proprio telefono o aggiornata per chi già ce l'aveva. Nell'app c'è un servizio coronavirus, dove bisogna compilare un questionario anonimo, in cui vi è richiesto il sesso, l'età e se si sono avuti alcuni sintomi o contatti con persone positive. Il questionario può essere aggiornato ogni giorno, ma non più di una volta. È un'arma in più per contrastare l'emergenza coronavirus. L'obiettivo è infatti quello di mettere a disposizione dell'unità di crisi regionale e degli studiosi informazioni complete e strutturate sulla diffusione del virus. Sarà così possibile da un lato fare scelte mirate nella gestione dell'emergenza sanitaria, come ad esempio individuare prima l'emergere di eventuali nuovi focolai, dall'altro sviluppare analisi statistiche ed epidemiologiche fondamentali sia per il presente che per il futuro. In poco più di un giorno sono stati oltre 100.000 i lombardi che l'hanno scaricata. È bene dire che questa applicazione non sostituisce il sistema sanitario. Questa applicazione è un'applicazione che serve statisticamente per mappare il rischio covid. È un'applicazione che raccoglierà dei dati perché i nostri virologi ed epidemiologici riescono a tracciare la mappa del rischio del contagio che serve innanzitutto come prevenzione e poi per successive funzioni. Alla conferenza stampa di ieri, in cui è stata presentata questa iniziativa, ha assistito da casa Gerry Scotti e, come lui stesso ha raccontato, ha subito scaricato l'app e ha voluto essere il testimonial di come sia facile da usare. Lanciando poi un monito, vedo troppa gente in giro, bisogna stare a casa. Gerry Scotti è intervenuto oggi in questa conferenza stampa, tenuta dal vicepresidente di Regione Lombardia, in cui si è entrati più nel merito, spiegando esattamente come funziona questa app e come va utilizzata, è intervenuto dicendo questo. Sentiamo. Stavo guardando la vostra conferenza stampa ieri pomeriggio, appena l'hai presentato l'app, io l'ho scaricata, ci ho messo, non sono un fenomeno di tecnologia, ma ci ho messo due secondi. E mentre parlavate ho anche completato il modulo di iscrizione che viene richiesto, perché oltretutto è molto discreto, è molto rispettoso anche della privacy, eccetera. Per cui, cosa vuoi che ti dica? Sono qui a testimoniarvi, a testimoniarvi, e a testimoniarvi che mi sembra un sistema efficace da adottare. Quindi lo consiglio a tutti i cittadini lombardi che ci stanno ascoltando in questo momento. Non la leggo come una privazione della privacy, la leggo come un'estensione delle nostre garanzie. Sappiate che si basa sul codice fiscale della zona dove vivete, quindi non abbiate paura di essere rintracciati per chissà quali motivi. Siate sinceri nel compilare, dite le vostre reali condizioni di salute e facendo così aiuterete voi e anche la vostra famiglia, perché adesso il problema sta nelle case, come penso voi stiate per illustrare a tutti quelli che vi ascoltano. Un'ultima cosa da cittadino affacciato al balcone. Vedo tanta gente in giro, vedo tanta gente in giro. Non bisogna mollare l'allarme, non è il caso di tornare a un focolaio come nei giorni scorsi. Vedo tanta gente in giro, bisogna starsene a casa. Questo Gerry Scotti. Uno dei riflessi del coronavirus è anche quello in ambito economico e c'è un caso drammatico che è emerso oggi, anche se è accaduto ieri sera. Un uomo aveva appena ricevuto la chiamata dal suo datore di lavoro, proprietario di un negozio di alimentari in zona Navigli, che gli comunicava di averlo messo in cassa integrazione e non licenziato come si era preso in un primo momento, per via del calo delle vendite dovute all'emergenza coronavirus. Poco dopo, un 25enne di origini senegalesi ha aperto la finestra del bagno del suo appartamento, che si affaccia su un cortile interno e si è gettato al di sotto togliendosi la vita. È accaduto ieri sera intorno alle 19.50 in via Pastorelli a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il coinquilino ha raccontato che la vittima si era chiusa in bagno a parlare al telefono di questioni di lavoro. A un certo punto sempre l'uomo ha raccontato di aver sentito un rumore di finestre e vetri. Ha sentito qualcuno, forse altri condomini, urlare cosa fai lì, scendi. Poi il tonfo. Da quanto è stato ricostruito, il ragazzo era stato messo in cassa integrazione, come gli altri dipendenti del negozio specializzato in prodotti alimentari in cui lavorava, che fa parte di una catena con sedi in tutta Italia. Come è stato riferito, il ragazzo era impiegato nel punto vendita specializzato da circa sette anni e aveva un contratto a tempo indeterminato. Poco prima del tragico gesto, avvenuto intorno alle 19.50 di ieri sera, aveva seguito un'attività di formazione online a distanza. E ora andiamo a vedere, sapete, il sindaco di Milano Giuseppe Sala cura una rubrica quotidiana su Facebook in cui analizza, sempre sostanzialmente legata al coronavirus, analizza quello che sta avvenendo e spiega che cosa sta facendo il Comune di Milano. Oggi ha presentato l'hub della Barona, dove avviene questo. Qui si lavora ovviamente in sicurezza, mascherine, guanti e prima di entrare misurazione della febbre. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Come va? Bene. Quanto? 36,2. 36,2. Bene, possiamo entrare allora. Andrea, raccontaci un po' quello che fate allora. Noi stiamo da tre settimane ormai ricevendo dal magazzino del Banco Alimentare le derrate. Arriva più o meno una o due tonnellate al giorno. Vengono stoccate in questi hub, su questi tavoli. E dipendenti del Comune di Milano, volontari, operatori del programma QB, creano i pacchi e le spese di queste persone. Sono spese settimanali, vengono trasportate con 25 pulmini direttamente alla casa delle persone e consegnate con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari. Ogni spesa pesa circa 8 chili e si compone di passata, riso, pasta, biscotti per i bambini e da qualche giorno anche latte, succhi di frutta e formaggini. Sì, buongiorno, io sono Michele Avellodi, sono referente al progetto QB Barona. Stiamo facendo in questo momento i pacchi. Siamo molto felici oggi perché le derrate sono più abbondanti del solito e quindi possono coprire il fabbisogno settimanale delle persone. Un grande grazie da tutta la città a loro. Oggi abbiamo portato la città qui. Normalmente loro sono nella città tutti i santi giorni. Grazie. Un'iniziativa che è curata dai dipendenti del Comune di Milano e da una serie di volontari. L'arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha preseduto la penultima Via Crucis 2020 trasmessa in diretta da Chiesa TV dal Duomo di Milano a porte chiuse. Celebriamo senza la gente ma con la presenza affettiva e credente di tutti coloro che si sono messi in ascolto, ha detto Monsignor Delpini. Sentiamo Anna Maria Braccini. Celebriamo in Duomo nella casa di tutti i milanesi senza la presenza fisica di tanta gente ma con la presenza affettiva, con la presenza credente di tutti coloro che si sono messi in ascolto. Sono queste le parole che dicono tanto dei sentimenti del pastore e dell'intera sua chiesa con cui l'arcivescovo introduce la penultima Via Crucis Zonale 2020 preparata appunto per la zona pastorale 1 Milano. Percorso pensato transitando dagli incontri con la madre Simone di Cirene e la Veronica. Dalla prima stazione Gesù è condannato a morte fino a Gesù muore in croce. L'ascolto della parola, le meditazioni, il canto, la preghiera, in ginocchio nell'ultima sosta precedono la riflessione annodata attorno all'incontro con Maria e alla sua figura. In questo tempo drammatico più che di chiacchiere, più che di numeri, di immagini e di allarmi abbiamo bisogno di accogliere ancora la parola della madre, di ascoltare ancora cosa dice il figlio. Infine ancora un'espressione del Vescovo Mario di vicinanza alla sua gente. Che questo percorso che ci conduce a Pasqua, a questa Pasqua così strana, così difficile, così drammatica, ecco questo percorso ci aiuti a contemplare questo nostro tempo con occhi e cuore di madre. E vi ricordo per chi ha seguito, chi sta seguendo l'edizione in diretta delle 19.10 del nostro telegiornale che se volete approfondire la riflessione dell'Arcivescovo per questa Via Crucis vi segnalo che fra poco alle 20.15 su Chiesa TV canale 195 andrà in onda la striscia di approfondimento quotidiana La Chiesa nella città oggi a cura di Anna Maria Braccini. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Dopo la pubblicità, spazio allo sport, quindi notiziario sportivo con Paolo Piromano e poi Nova Stadio con Luciano Rindone. Grazie per essere stati con noi, restate su Telenova. Buona serata. Grazie.